Tueppi ci ha permesso in poco tempo di semplificare i flussi aziendali interni e ha aumentato la condivisione di informazioni. Siamo riusciti, grazie a questo strumento, a monitorare le informazioni in maniera puntuale e a raggiungere i nostri clienti con una velocità che prima non era possibile. In poco tempo Tueppi ha permesso una collaborazione più forte all'interno della nostra azienda ed ha permesso di valorizzare le risorse interne grazie alla condivisione totale delle informazioni e degli obiettivi.